Musica Ho deciso di dodoarmi perché volevo rappresentare questo momento Io comunque essendo fatto questo doaggio credo sia capito che sono a favore dei vaccini Credo che la scienza sia l'unica strada da seguire per cercare di riuscire da questo periodo Quindi se magari può essere anche un incettivo per tutti i giovani e non vaccinarsi ben bene Musica 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 Musica